Abbiamo fatto, che te ne è sembrata? No, una bella chiacchierata, secondo me è venuta bene. Fabio, innanzitutto ti dico grazie per aver accettato questo mio invito e ti dico subito il perché, perché ci teniamo in maniera molto particolare. Sei una persona che seguo da, adesso non voglio esagerare, ma saranno tre anni, personalmente, eri molto meno famoso rispetto a quanto sei adesso, però riconosco, e nel motivo per cui tra l'altro ti ho invitato, riconosco una cosa, sei diventato in questi tre anni una persona estremamente diversa professionalmente, nel senso che adesso sei molto più puntuale in tutte quante le cose che fai, ma è rimasta sempre la stessa figura di Fabio che ho conosciuto tre anni fa, comunque una persona molto precisa, una persona che ci tiene a fare bene quello che fa e quello che vuole dire. Per me è un divulgatore d'eccellenza e dico questo perché poi in realtà per me sei stato di esempio quando io ho aperto il mio canale YouTube per parlare di street photography, perché da te ho imparato che prima di dire qualcosa devi essere assolutamente preparato in quello che dici. Andare a braccio, diciamo così, senza il canovaccio che utilizzano normalmente gli oratori è una cosa che è un'arma a doppio taglio, perché si rischia di dire sempre le stesse cose, di non arrivare mai al punto e di non sapere trasmettere quello che in realtà vorresti fare. Per me sei stato veramente sempre di grande esempio e è stato il motivo per cui oggi ti porto qua come esempio anche per tutti quanti i membri della mia community. Quindi prima di tutto ti dico grazie, benvenuto. Grazie a te per avermi invitato. No, ma scherzi, per me era il minimo. E in più ci tengo a dire anche un'altra cosa, che tu sei rimasto quello di sempre, non è facile, tu più di me, visto che tra l'altro su YouTube ci sei da tanto come fotografo, e hai un canale assolutamente importantissimo, che guardo io, insieme a altre più o meno 60.000 persone quasi, sei una persona che comunque ha mantenuto una personalità, sempre la stessa personalità, diciamo così, non ti sei eretto a portatore della verità, e lo dimostra il fatto che tu hai accettato il mio invito, insomma un canale piccolino, appena nato, eccetera, e ti stai un po' rimettendo a un gioco, al gioco mio, senza sapere che cosa diremo oggi. Ecco, questa è la cosa più bella di tutte. Vorrei rompere gli induggi e far parlare un po' te e farti presentare. Io normalmente inizio queste street talk, che normalmente facciamo in diretta, ma stavolta no perché siamo tutti quanti in vacanza e tu hai accettato di regalarci un po' di tempo, con una domanda, e cioè mi piacerebbe che tu ti identificassi con tre parole. Questa è una signora domanda, domanda facile. Tre parole, curioso sicuramente, la curiosità è una cosa che fa parte di me fin da quando ero piccolissimo, scoprire tutto quanto, il mondo, come funzionano le cose. Ecco, una cosa che facevo da piccolo e che continuo a fare tuttora è guardare come funzionano dentro le varie cose. Per me una trasmissione bellissima in televisione è come è fatto, vedere come sono fatte le cose è spettacolare. Detto questo, curioso, poi vediamo un po' tranquillo, perché come una persona abbastanza tranquilla, tu dici sì non mi sono montato la testa, ma perché io di base sono esattamente come mi vedete, non è che sono diverso in video rispetto a come sono nel mondo reale, e lo può confermare chiunque mi abbia conosciuto di persona. Io di base sono una persona molto pacata, anche riservata. Ecco qua aggiungiamo un altro termine, che però sì, dovendo in certo senso, avendo questa voglia di condividere quello che ho scoperto, quello che so, insomma, anche questa mia passione, un pochino ho dovuto anche superare questo mio limite per mettermi in gioco. E se tu mi segui da tanto penso tu abbia anche visto l'evoluzione nel mio modo di anche pormi, di comunicare col pubblico da quando ho iniziato ad oggi. Io sto un po' in imbarazzo con te. Tu per me sei un maestro, lo sei sempre stato, continui ad esserlo, e nonostante io e te facciamo cose completamente diverse, eppure io continuo a seguirti sempre con grandissimo interesse. Per come ti sei descritto tu? C'è una persona calma, e questa calma è veramente una cosa che a me mette grande serenità, ed è monito per fare altrettanto, perché io invece di me sono un po' istintivo. e quindi anche quello lo prendo come qualcosa da imparare e a cui arrivare. La curiosità è una cosa che in assoluto ci unisce un po', perché sono anche io estremamente curioso, anche se non nerdo, come ti sei definito tu in qualche video di un po' di tempo fa, perché sei ingegnere. E sono ingegnere, sono ingegnere dentro. Ecco sì, appunto, e questo comunque è un altro pregio, perché prima di poter dire qualcosa in realtà sei uno che la snocciola completamente fino al nucleo, e poi sei una persona vera. Fabio, questa cosa onestamente non riesco a non ripeterla, perché per me è molto importante. Entriamo proprio nel vivo del motivo per cui sei qua. Tu non so se hai avuto modo, dal mio invito, insomma, di guardare un po' quello che faccio. Però ecco, io ho creato una community che si chiama F4.0 di Street Photography, una community che comunque vuole un po' rompere le scatole a quello che è l'ambiente. Tu che sei un fotografo comunque affermato, anche se è un fotografo di famiglia e newborn prevalentemente, sei una persona che comunque ho notato proprio nella tua evoluzione da fotografo e da content creator, che ha dentro di sé una vena artistica che quando può la libera un po', no? Te l'ho visto fare a Tokyo, se non sbaglio era per Panasonic, quando sei andato lì con loro. Te l'ho visto fare già un paio di anni fa per Fuji. Adesso non mi ricordo quale città, insomma, ti sei un po' districato in un POV di Street Photography. Sì, qua a Modena, nella mia Modena. Ok, a Modena. E proprio in quelle circostanze io ho visto in realtà che tu ce l'hai questa vena artistica dentro, che inevitabilmente per il lavoro che fai sta sempre un po' sotto traccia, però ce l'hai. E il motivo per cui oggi ti ho voluto qua è per portare nella mia community l'esempio di una persona vera, di un fotografo vero, che è fotografo per professione, ma che in realtà questa cosa non gli impedisce di fare quello che un po' tutti quanti invece si mettono in bocca di fare, cioè arte. Io sono convinto che l'arte la fai anche tu, anche nel tuo lavoro. Quindi adesso questo ti ha fatto un po' il cappello di cui dobbiamo parlare oggi. Io a differenza tua sono un po' meno calmo, è notato, mi muovo, gesticolo, ogni tanto dico qualche parolaccia, ma siccome questo video è con te, prometto di non dirne, perché io in sei anni, cinque anni, quattro anni che ti conosco, insomma, non te l'ho mai sentito dire una nei video, mai. E questa è una cosa che per me è veramente impensabile. In pubblico no, nel privato lasciamo stare, perché quando c'è il momento scappano tutti, ma no, non in pubblico cerco di contenermi, ecco. Visto che sei tu, queste mie street talk sono molto chiacchierate, cioè le domande vengono fuori un po' dai discorsi che ci facciamo. Tra me e te io ti conosco, tu probabilmente un po' meno, se non affatto, e quindi con te mi sono preoccupato di stilare un po' la lista delle cose da chiederti. La prima cosa che però ti devo chiedere, e per me è importantissimo che la sappiano tutti quanti i membri della mia community, è la capacità, o meglio l'importanza, di imparare a fotografare. E adesso ti faccio una domanda diretta. Tu non hai mai nascosto, questa è un'altra cosa che ti riconosco, che hai iniziato a fotografare con il digitale. Sì, nella pratica sì. Questa cosa ti fa assolutamente onore, perché in realtà oggi, soprattutto per quanto riguarda la street photography, che purtroppo oggi è un po' un genere di moda. Poi tu correggimi se pensi che io dico ogni tanto qualche corbelleria, ma è così. Condivido. Ok. Cioè, tra tante persone che c'è, ci sono anche tanti altri che lo fanno solo per moda. E il problema sta proprio lì. Che siccome è diventato un fenomeno di moda, poi ti dirò anche il motivo per cui secondo me è diventata di moda, però oggi quelli che tendono ad autocelebrarsi come portatori dell'unica verità della street photography, continuano a dire che se non scattavi in analogico con i rullini, non sei un fotografo, non puoi avvicinarti alla fotografia e magari non sarai mai capace di dire qualcosa. Ecco, tu per me oggi sei qua, prima di tutto per questo. Non hai mai fatto, non hai mai nascosto che hai iniziato col digitale, come me, a fotografare nella realtà. Eppure mi pare che tu lo faccia con grande capacità, grandi risultati, perché comunque io conosco i tuoi lavori che tu porti nei tuoi video tutte le volte. E quindi ecco ti vorrei chiedere, si può imparare a fotografare anche con il digitale? La risposta brevissima è assolutamente sì. Premessa, io ho fotografato ovviamente in analogico, io sono in classe 83, quindi quando ero bambino non c'era altra via nei primi anni 90 per fotografare, però lì la fotografia non era una passione, chiamiamola così, andavi in gita con la scuola, ti portavi o la Kodak, quella a rullino istantanea, oppure una compattina dove si metteva il rullino che poi si portava a sviluppare nel negozio dietro casa. Quindi sì, io fotografavo in analogico perché era l'unico mezzo che c'era, però lì la fotografia non era una passione, ma è tantomeno un lavoro, era proprio l'unico mezzo per portare a casa dei ricordi. Sono invece nato dal punto di vista fotografico, chiamiamolo così, col digitale, perché è lì che è nata la mia passione per la fotografia, quindi da lì in avanti ho iniziato proprio a studiare come scattare una fotocamera, sensore, apertura, ISO, tutte quelle robe lì. Solo successivamente. Detto questo, si può imparare a fotografare col digitale, si può imparare a fotografare con qualunque mezzo in realtà. Ritorna tutto anche alla prima parola che ti ho detto, che mi definisce, la curiosità. Cioè se uno vuole imparare a fotografare, deve essere curioso, avere voglia di imparare, di sperimentare, guardare anche il lavoro di altri, iniziare anche provando a copiare il lavoro di altri, perché si parte imitando, poi si iniziano a prendere delle piccole cose da uno dall'altro e si costruisce il proprio stile personale. Noi esseri umani in qualunque cosa impariamo per imitazione, impariamo a parlare sentendo i nostri genitori che parlano, impariamo a camminare guardando gli altri. Stessa cosa per la fotografia. Una volta prese le basi della tecnica, che quella secondo me è imprescindibile, bisogna sapere che cosa si sta facendo e soprattutto anche il perché lo si sta facendo. Dopodiché bisogna aprire la mente e guardare come fanno gli altri e provare a sperimentare e fare tanta pratica. Ma sì, questo col digitale, come con l'analogico, come con qualsiasi altro strumento. Io potrei concludere il nostro video già qua perché in realtà hai scelto tutti i dubbi che volevo, sto provando in tutti i modi, insomma, a risolvere all'interno della community, no? Perché poi quando ti dicevo che la street photography è un po' un fenomeno di moda in questo momento, tutto secondo me parte dal fatto che poi anche lì mi piacerebbe sapere cosa ne pensi, ma per me la fotografia è un po' un'esigenza personale. Lo hai fatto tu, io sono un classe 76, a differenza tua, quindi sono anche più vecchiotto, quindi anche come te ho iniziato per necessità, per voglia di raccontare qualcosa per immagine, anche quando magari questa non è la passione principale, a farlo anche io con i rubilini, no? Però ecco, mi rendo conto che quella della fotografia è un'esigenza che ha la gente in determinati momenti della vita che possono essere circoscritti da un giorno a un altro piuttosto che poi continuarli per tanto tempo e svilupparli dopo in qualcosa di più, come hai fatto tu e come sto facendo io. L'avvento dei cellulari sicuramente ha fatto il suo perché ci ha messo nelle condizioni di poter avere sempre uno strumento con cui raccontare qualcosa e per me F4 nasce proprio per questo motivo, cioè dare un po' le basi e riconoscere questa esigenza in qualcosa di più, quindi in un linguaggio. Hai detto benissimo tu quando dici che impariamo per imitazione. Questa è un'altra cosa su cui mi sto battendo fortemente, dove la nostra cultura prevalentemente al 90%, tu hai anche una cultura molto vasta, non soltanto in ambito fotografico, ripeto, lo dimostra la tua carriera, però penso che converrai con me quando dico che l'80% abbondante della nostra cultura è data dalle immagini. E inevitabilmente non possiamo non prendere esempio, non lasciarci influenzare dalle immagini che vediamo, dal semplice volantino pubblicitario fino a un libro dei grandi del passato. E dico questo perché a me viene rimproverato spesso il fatto che io parli un po' delle cover. io sono anche musicista e ho iniziato a suonare prima di incidere i miei dischi facendo cover, quindi in realtà suonando la musica di altri. Lo fai, lo fai perché poi ti serve per sviluppare un linguaggio. Ricordo veramente, tu hai fatto benissimo l'esempio dei bambini che imparano a parlare imitando i genitori. A scuola tutti noi abbiamo imparato con i quaderni alle righe piccole a copiare le lettere, eccetera. Questa è una cosa bellissima che hai detto, io l'hai detta vedi la differenza tra me e te, cioè chi in realtà ha questo lavoro di content creator, di insegnante, perché ti vedo per me lo sei stato e continui ad esserlo, e da tanto tempo e io insomma che un po' sto iniziando a farlo. Sei riuscito a dire in maniera molto puntuale in un attimo, quello che io sto provando a dire è già da qualche video, e quindi anche di questo ti ringrazio. A proposito però, sempre della street photography, perché poi ai miei amici di F4 interessa ovviamente, probabilmente, la street. Prima di tutto, io ti ho visto fare street, ma tu, che l'hai fatta in poche occasioni, o meglio, ce l'hai mostrata in poche occasioni, la street. quanto tempo gli dedichi e se è un genere che effettivamente comunque ce l'hai dentro. Allora, questo tasto dolente, nel senso che l'avevo spiegato in maniera un pochino più articolata proprio nel mio primo esperimento di street photography in POV. Con la street ho un rapporto, chiamiamolo, conflittuale, nel senso che non è la mia prima passione, non è una cosa che faccio spesso, né tantomeno estremamente volentieri. Faccio street quando ho bisogno di provare le fotocamere perché molto spesso non ho altro modo per fare dei test, non posso sempre tra virgolette rompere le scatole a mia moglie e richiederle di posare per me nel suo tempo libero dopo che ha lavorato una settimana e quindi vado in giro a fare foto. Però, per come l'ho sempre vissuta io, non è la mia prima passione. Ecco, se non facessi questo lavoro chiamiamolo così di content creator probabilmente non farei street. Non è un genere, mi piace vedere le foto di street di altri, ecco questo mettiamolo bene in chiaro, non è un genere che tra virgolette mi fa schifo a prescindere. Non mi piace tanto farlo a me perché non mi sento io per come sono una persona un po' riservata, un po' schiva chiamiamolo così, non mi sento tanto a mio agio e infatti se hai visto anche tutte le mie foto street sono molto spesso da lontano, non sono quello che va in giro a fotografare la gente e li ferma per strada e ti posso fare una foto oppure gli piazza la fotocamera a 20 cm dal viso. No, quella è una cosa che non faccio e probabilmente non farò mai. Io con un pizzico di presunzione dico che non è vero che tu la street non la ami in maniera particolare e che non la non la pratichi un po' perché penso ti manca il tempo anche visto il lavoro che fai da fotografo e poi anche da content creator e io insomma sto da quest'altra parte e so esattamente quanto tempo impegna creare un video e portarlo poi sul canale. Però ecco questa cosa che hai detto e cioè che non ti senti molto a tuo agio questo sì si avverta nelle tue fotografie e te l'ho chiesto per questo motivo. Io ho fatto un video ad hoc per spiegare un po' il concetto di street la street non è soltanto quella di Gilden dove andavi in faccia sparato col flash alle persone c'è un un ragazzo un fotografo molto bravo della community si chiama Francesco che fa street a lui dedicato un video apposta dove non è necessario neppure inserire per forza una figura umana per fare street e e quindi rompiamo un po' anche un altro mostro sacro della street che serve per forza alle persone in realtà ti chiedevo questo perché perché questo tuo approccio riservato in realtà produce una fotografia molto particolare che è molto delicata della della realtà e questa cosa non è sbagliata perché poi io dico sempre che in ogni fotografia e mi piacerebbe sapere adesso cosa ne pensi tu c'è senza parlare di percentuali ma c'è una grandissima percentuale di una foto che è il fotografo e il restante è il soggetto fotografato e quello che è il fotografo si vede anche dalla prospettiva in cui si scatta che per me è stato uno dei fondamenti dei primi fondamenti su cui ho costruito tutta la mia fotografia e cioè il punto di vista che non deve essere per forza quello sfacciato del fotografo che ferma le persone in strada che non è il tuo caso e paradossalmente non è neanche il mio sono una persona riservata non sono propriamente uno timido eppure difficilmente io sparo in faccia le persone con la fotocamera per tanti motivi che poi possono essere più o meno opinabili e e quindi guardandole in questo modo un po' come punto di vista credi ancora che la street non sia propriamente un genere che fa al caso tuo o no? guarda ho provato come detto tante volte a fare street forse anche il contesto che qua sembrerà una cosa banale per tanti però il farlo qui nella mia città a Modena mi trovo più in difficoltà quando invece sono stato a Tokyo ad esempio lì mi veniva proprio voglia di scattare un po' per la curiosità del posto luoghi nuovi persone diverse situazioni differenti lì mi sentivo più spinto anche a fotografare in strada stessa cosa quando vado ad esempio mi invitano a Milano ai vari eventi per provare le fotocamere ecco anche lì città completamente diversa mi sento più invogliato qui sarà che Modena è piccolina sarà che la conosco fin da quando ero piccolo non ho tutto quello stimolo non so come come altro descriverlo e quindi mi trovo anche forse un pochino più in difficoltà per quello detto questo sì è verissimo quello che hai detto c'è moltissimo del fotografo nelle foto alla fine come scegli tu di comporre una scena di inquadrare orizzontale verticale taglio largo taglio stretto cerchi una simmetria cerchi di prendere solo una persona cerchi di prendere delle geometrie sono scelte e la scelta è alla base della fotografia sei tu che scatti che scegli come fare le cose in un determinato modo è quello poi quello che si vede come risultato insomma e quindi due o più fotografi messi nella stessa condizione stessa scena la fotograferanno in modi completamente differenti e nessuno dei due o dei tre o quelli che sono sarà giusto o sbagliato a prescindere e anche qui posso dire amen lo posso dire e senti Fabio tu fai sei prevalentemente un fotografo di famiglia e newborn giusto? sì io penso che sia una delle cose più difficili che esista io sono ho iniziato anche a fotografare e continuo a farlo anche per eventi ho fatto per concerti ma l'ho fatto anche per matrimoni classico insomma che si fa anche io matrimoni lì dove dico che perché poi anche lì ci sono le varie fazioni perché poi quando si parla di arte in generale quindi anche di fotografia non si parla nemmeno di correnti di pensiero ma di fazioni che sono più secondo me stanno molto meglio se parliamo di tifoserie di calcio di squadra di calcio piuttosto che di fotografia o altre cose così eppure per quanto riguarda per esempio la fotografia di matrimoni si suol dire eh ma non sei un vero fotografo perché scatti i matrimoni visto che io dico ma non perché l'ho fatto perché lo vedo fare perché ho imparato da chi lo fa da anni con grande capacità che in realtà ci vuole una prima di tutto una capacità tecnica che è fuori dal comune perché abbraccia un po' tutti quelli che sono gli ambiti della fotografia dalla scale piuttosto che il reportage piuttosto che la ritrattistica e compreso anche la fotografia di oggetti per quanto riguarda invece la fotografia di famiglia e newborn io che mi sono trovato a toccarla me ne sono tenuto molto alla lontana ma sai perché? perché veramente penso che sia la cosa più difficile da fare ed ecco perché io continuo a insistere con te nella street perché fare fotografia di famiglia significa uno instaurare un rapporto intimo empatico che non ha niente a che vedere con gli sposi il giorno del matrimonio che sono già belli e predisposti e due riuscire a inserire in uno scatto e poi saperlo scegliere quale scatto vuoi consegnare ovviamente ai clienti tutto quello che sei tu e tutto quello che tu hai imparato a conoscere delle persone che stai fotografando per me è un'opera ciclopica cioè non niente a che vedere con quello che facciamo noi di street che catturiamo magari i momenti o che che riusciamo a vedere eccetera o quelli che si possono costruire per strada quello che fai tu è molto molto di più che paradossalmente però mi viene molto più semplice perché da un lato intanto quando facciamo servizio di famiglia siamo solo io e la famiglia non c'è nessun'altra distrazione quindi già riuscire a instaurare un rapporto per me è molto più molto più semplice secondariamente sono lì perché loro mi hanno scelto e quindi già quello è una barriera in meno da dover da dover superare e poi diciamo che sono arrivato molto di più a questo genere anche da quando sono diventato papà e quindi riesco anche a relazionarmi in maniera molto diversa con le famiglie ed è una cosa che che a me piace proprio per quello perché io da genitore vedo certe cose sento certe cose mi piacerebbe vedere poi nelle foto determinate cose che è quello che cerco poi di catturare e lasciare ai miei clienti anch'io ho iniziato facendo facendo matrimoni e ti posso confermare come hai detto anche tu che sì bisogna saper fare un po' di tutto è molto più difficile di quello che può sembrare da fuori devi saper fare reportage devi saper fare ritratti devi saper utilizzare luci naturali artificiali scattare in bassa luce scattare in un istante perché certe cose capitano una volta sola e non si ripetono è molto complesso chi dice così probabilmente perché non l'ha mai fatto come tante cose su internet purtroppo e per fortuna tutti hanno il diritto di parola bisognerebbe anche capire se ok hai il diritto di dire le tue cose ma le dovresti dire sì oppure no il nonno di mia moglie diceva sempre il buon tacere non fu mai scritto nel senso prima di parlare bisognerebbe pensare e riflettere io ho fatto un post l'altro giorno in risposta a un post insomma all'interno della community dove in realtà parlavo proprio del silenzio e della bellezza di quanto in realtà può essere più utile il silenzio da non una parola detta così a bambera e quindi assolutamente sono d'accordo con te e l'empatia Fabio secondo me che è estremamente importante in una fotografia quella quella capacità che hai che un fotografo deve avere per raccontare banalmente una storia è solo che in ogni fotografia c'è la propria storia e la storia di chi stai fotografando e il punto di vista di chi scatta parlando di fotografia che è molto più importante del soggetto che stai ritraendo e non è un caso che tu abbia detto che oggi ti viene più naturale essere fotografo newborn da quando sei diventato papà perché cambia il punto di vista il punto da cui ritrai è assolutamente diverso ed è quello che io sto provando a trasferire a tutti quanti i membri della community è il motivo per cui veramente insisto nel dire che ti ho voluto qua perché a differenza io ovviamente non faccio nomi ma non li faccio perché tu non vorresti che io li facessi per come ti conosco sei una persona veramente estremamente delicata io non ho altri aggettivi per definirti se non questo e prendilo veramente come il complimento più grande che ti possa fare però non posso non dire che tra tanti che ci sono anche meno affermati di te tecnicamente meno preparati di te perché tu tecnicamente lo dimostri in ogni video che fai di recensione che se uno che comunque la tecnica la conosce è benissimo quindi anche persone molto meno tecniche molto meno preparate di te si permettono di dire cose che forse sarebbe meglio se non le dicessero ecco diciamo così e nonostante tutto tu sei qua a parlare con me magari anche a lasciarti dire e apprezzare un punto di vista differente che il mio ed è lì che ti dico che è il punto da cui si ritrae ecco perché è necessario e con te ho insistito tanto nella street photography perché è proprio il punto di vista quel che è diverso tra me e te perché magari siamo già alti diversi io magari un metro e 76 e tu magari qualcosa in più o qualcosa in meno ma già quello cambia la prospettiva già quello cambia la prospettiva e quello è assolutamente importante e nella street photography un'altra cosa che per me è fondamentale avere qualcosa da dire e non è un caso che anche lì tu abbia detto che a Modena ti viene più difficile fare street photography rispetto a quello che ti viene spontaneamente di fare a Tokyo a Londra a Milano quando vai insomma per questi per questi eventi perché ti sembra di non di non aver niente da dire su Modena quando in realtà ricordo benissimo le tue fotografie fatte a Modena in street se non sbaglio ripeto quella volta proprio per la Fuji io tra l'altro sono innamorato di Fuji quindi alcune cose le ricordo anche per quello dove c'è un taglio tuo delle fotografie fatte di street scritto in quella circostanza che per me è favoloso però ecco non ti sentivi penso con quella voglia di raccontare chi sa che di Modena perché già la conosci cosa che invece con la voglia di raccontare è una cosa nuova di Tokyo di Londra di Milano quando ci vai eccetera quindi anche quello è importante sapere già quello che vuoi dire e quindi adesso ti chiedo quanto è importante prepararti prima la storia da raccontare prima di togliere la fotocamera dalla sua custodia o levare via il tappo in realtà da questo punto di vista tendo a essere abbastanza istintivo non ho bene in mente a prescindere che cosa andrò a fotografare se parliamo di foto per lavoro bene o male so il tipo di scatti che voglio ottenere quindi cerco anche di indirizzare i miei soggetti le famiglie verso quello che voglio io come risultato finale le volte invece in cui vado a fare street non mi pongo nessun nessun vincolo particolare a prescindere diciamo che sono anche cresciuto nel tempo da quel punto di vista quindi ora so più o meno anche cosa andare a cercare cosa può piacere cosa può piacere a me soprattutto quindi cose molto pulite minimal e cerco di trovare le situazioni in cui poter esprimere quella cosa lì magari ecco se le prime volte in cui andavo fuori a fare street per anche solo per testare una fotocamera chi fa street mi odierà per questo ma io fotografavo quasi a caso non avevo la minima idea cercavo di fare delle foto di prova chiamiamole così ora ho un approccio leggermente diverso e anche un pochino più ragionato vado a cercare proprio un determinato tipo di scatto quindi non è solo la foto di test che potrebbe essere fatta nel giardino di casa come in qualsiasi altro posto cerco di fare delle cose che poi siano anche utili dal punto di vista funzionale ma anche belle per me non so come altro definirle spero si sia chiaro il concetto è chiarissimo il concetto però ti propongo una sfida io non so se riusciremo se avrai il tempo insomma mi piacerebbe anche conoscerci di persona magari verrei proprio io a trovarti in quella tua moglie e regalarci due ore di street io e te sarebbe un'altra cosa bella però ti propongo una cosa che io sulla quale fondo tutto quello che il motivo di questo canale è basato su quella che tutta quanta la mia cultura e tutti quanti i miei studi della vita e il mio lavoro e che è l'attenzione selettiva ecco perché ti ho chiesto se tu già prepari un po' la storia da raccontare tu dici hai detto di no che sei molto istintivo ma in realtà quando dici scelgo quello che può piacere a me già lì tu ti stai dando dei paletti ed è giusto che sia così perché altrimenti siamo talmente tanto bombardati da informazioni che se non ne sopprimiamo qualcuna non riusciremo mai a concentrarci su qualcosa di specifico se ti posso proporre una sfida è quella di la prossima volta che esci a fare street fosse anche soltanto per testare una nuova fotocamera ecco scegli già un argomento io raccontavo una volta in un video che sono uscito a fotografare con chi comunque ha reso possibile anche tutta F4 altra fotografa per me di street eccellente si chiama Nicoletta De Gani venne a trovarmi nella mia città a Cosenza un'altra città più piccola rispetto a Modena dove non è facilissimo fare street eppure siamo usciti quella volta usciamo a fare una fotografia e io già c'ero il titolo della foto in mente e paradossalmente l'attenzione si concentra già in quello e riesci a catturare meglio le cose quindi la mia sfida è quella la prossima volta vai già con un'idea e prova poi magari mi dirai e mi piacerebbe che tu mi dicessi Tullio avevi ragione oppure Tullio hai detto una cazzata no no assolutamente è un ottimo esercizio da provare un'altra domanda che secondo me è il caso di farti su cui potrebbero trarre insegnamento tutti quanti i ragazzi di F4 e quanto la tua professione di fotografo di famiglia e di newborn influenza la tua street photography o quanto quelle prove di street photography comunque influenzano la tua fotografia di professione quindi quello scatto con l'istintività con la naturalezza o soltanto il semplice uso della luce naturale che trovi in quel momento se può essere anche quello un qualcosa che ti suscita artisticamente uno scatto piuttosto che un altro guarda sì delle cose che hai detto secondo me è più una questione di luce se dobbiamo trovare delle contaminazioni tra i due ambiti perché altrimenti almeno per quanto mi riguarda sono cose che sono completamente separate però sì a livello di luce alla fine è la cosa fondamentale a livello di famiglia io tendo a scattare sempre incontro luce verso il tramonto mi piace quel tipo di effetto lì quel tipo di estetica lì e anche quando vado a fare street magari non vado all'ora del tramonto mi capita per esigenze lavorative esigenze di tempo di scattare in altri momenti della giornata a quel punto però sfrutto luci e ombre una delle foto secondo me street più belle che abbia fatto io quella che almeno a me è piaciuta di più l'ho scattata proprio a Tokyo ed è quel signore in bianco e nero che sale per le scale c'è lui incontro luce proprio in una fetta di luce tutto il resto in ombra quello è proprio quella che mi piace mi ha fatto dire wow questa sì questa è venuta bene già quando l'ho scattata sapevo che sarebbe stata buona perché ho anche poi cercato quel tipo di illuminazione lì tante delle cose che ti chiedo insomma sono sicuramente curiosità mie ma tante altre cose penso che possano servire a tutti e tante sono anche degli argomenti che io poi voglio trattare in maniera molto più argomentata all'interno dei miei video sul canale uno di questi è sicuramente quella della postproduzione io sempre conoscendoti un po' posso presumere dicendo e di nuovo lì sei stato mio maestro da sempre che la fotografia si fa in macchina la postproduzione ovviamente è importante perché comunque è un processo artistico e su questa cosa non si discute so che tu sarai d'accordo ma non è quello che si dice in giro il 60 70 addirittura anche l'80% della fotografia secondo me è l'esatto contrario la postproduzione deve servire per è un po' come la punteggiatura di un periodo non è l'aggettivo sono gli aggettivi ecco io l'ho definita spesso in diversi video come le spezie da aggiungere in un piatto quando cucini ne metti la giusta quantità e il piatto da buono diventa ancora più buono ci metti troppe spezie e diventa immangiabile questo è più o meno il concetto che sta alla base grazie ti ripeto io su questa cosa sono assolutamente d'accordo io quando ho iniziato a fare street photography se vogliamo un po' anche ho sviluppato tutta quanta tutto quello che è il mio linguaggio grazie alle Fuji perché le Fuji quell'approccio proprio ecco simile analogico molto smart di quelli che sono gli unici parametri da tenere sempre sotto controllo per comporre bene una fotografia in macchina io ce l'avevo lì davanti in maniera proprio veloce e anche visivamente sempre così alla portata e lì uno fotografo diceva no ma non ti devi preoccupare tanto di come scatti devi imparare a post produrre e io dicevo guarda sì ok la post produzione è importante dirà anche tanto ma diciamoci la verità io ho necessità di creare la fotografia con la macchina fotografica che sarebbe la mia penna di quando ho scritto il libro o la mia chitarra insomma di quando io ho scritto le mie canzoni piuttosto che andare dopo da chi mi corregge il testo e le Fuji per me sono state un'altra grande scuola una grande palestra per questo motivo e sentirti dire ancora una volta che la post produzione sono come le spezie in un piatto è quello che vorrei che imparassero tutti perché ad oggi è la street altra leggenda e che non è street se fino a qualche anno fa c'era il teal and orange di moda adesso di moda ci sono altri preset senza capire che basta veramente poco per rendere una fotografia ancora più bella che è proprio quella delle spezie o della punteggiatura perché è più importante quello che tu volevi dire e come hai saputo dirlo già con la macchina e che i parametri per scattare una buona fotografia sono tre cioè non è che ce ne siano tanti altri ok poi diciamo il rischio con la post produzione è sempre di andare oltre di fare troppo cosa che capita molto spesso ai principianti uno parla inizia a muovere questo questo quell'altro gli sembra di aver fatto wow in realtà si verrà meglio fermarsi un pochino prima diciamo anche il discorso dei preset che dicevi tu quello è un po' come crearsi un proprio stile ecco l'importante non abusarne anche lì discorso analogo per le Fuji cioè se uno scatta con le Fuji che io adoro anche quando sono andato a Tokyo ho fatto quel video con la X100V e io adoro i colori della Fuji non l'ho mai non l'ho mai nascosto lì però non è vero che non c'è post produzione è post produzione già fatta in camera perché scegliere un profilo colore piuttosto che un altro anziché un altro è scegliere di fatto come si faceva una volta scelgo un rullino Portra anziché un rullino Kodak Gold o quello che è perché un preset ti dà semplicemente dei colori diversi però sì è quello di base da lì qualche piccola regolazione e si va diciamo di non esagerare mai con la chiarezza cioè quello è una cosa che veramente alcune volte è alluginante la composizione Fabio ho fatto un po' un video forse un po' strano sulla composizione dove la composizione è una scienza e su questo non si discute però all'interno della composizione ci sono tanti elementi che poi fanno sì che una fotografia funzioni o non funzioni io parto sempre da un da prima di tutto da un elemento molto soggettivo che è quello di avere qualcosa da raccontare e avere la necessità di raccontarla faccio sempre l'esempio con Bukowski di una sua poesia quando dice volevi fare lo scrittore se non ti lascia da dentro con la violenza è meglio che non la scrivi una poesia è meglio che non scrivi e anche in quel caso lo dico delle fotografie la presto questa poesia alle foto se non hai la voglia la necessità e l'urgenza di scattare una fotografia quindi di raccontare come tu stai guardando in quel momento il mondo non c'è necessità nemmeno di fare quella foto ed ecco perché poi la composizione è una diretta conseguenza e cioè sicuramente la regola dei terzi come semplificazione della regola aurea piuttosto che i pattern luci e ombre e tante altre sotto sotto elementi della composizione che tu conosci benissimo sono importanti perché la fotografia sia bella ma se costruiamo una fotografia eccellente da un punto di vista compositivo ma che non ha un messaggio per me rimane comunque una fotografia che se non fosse stata scattata voglio dire non è che correggimi se sbaglio cioè io sono convinto che le fotografie di Bresson ha definito anche a giusto titolo come l'occhio del secolo siano belle non per la composizione anche se lui era un maestro di composizione ma per il messaggio che hanno così come tutti quanti gli altri grandi qual è il tuo approccio la dei terzi un'altra cercando solo simmetrie in modo da apprendere gli strumenti dopodiché una volta che li ha interiorizzati non è che ci devi proprio più pensare attivamente diventa una scelta quasi inconsapevole vedi una scena e sai già qual è il modo giusto per comporla per esaltare il soggetto è quello secondo me il ruolo della composizione esaltare quello che hai davanti senza magari focalizzarsi proprio su ho usato questo usato quello con l'esperienza viene tutto molto più più naturale è un altro un altro mezzo in fin dei conti un po' come parlavi della postproduzione prima un'altra spezia se il messaggio che volevi dare è già forte di suo in realtà la composizione ti aiuta soltanto a renderlo ancora più piacevole o magari portare all'attenzione quello che volevi dire altrimenti diventa solo tecnica che a quel punto tecnica senza messaggio lascia un po' il tempo che trova perlomeno nella street cioè ci sono contesti in cui alcune foto devono essere per forza 100% tecniche tipo devi fare la foto di un prodotto quella deve essere perfetta perfettamente inquadrata perfettamente illuminata eccetera eccetera lì ci sono zero margini artistici ma quando si fa altro tipo di cose come può essere la street come può essere per me la fotografia di famiglia sì la tecnica è fondamentale perché è un modo per scegliere come esaltare il soggetto ma deve essere proprio quello ci deve essere una storia dietro altrimenti non c'è una foto che non dice nulla ok bella tecnicamente fatta bene ma boh poi finisce lì fabio quanto è importante perché ho intenzione di fare di trattare perché tra l'altro questo argomento in maniera molto particolare e forse anche un po' dissagante quanto è importante il social instagram che comunque oggi per gli street photographer forse è la vetrina più importante che hanno piuttosto che youtube o ma lo stesso facebook intorno a tutte quante le piattaforme social quanto sono importanti per il lavoro di ognuno la domanda da fare sarebbe perché lo fai perché fai street lo fai per avere approvazione sui social lo fai per perché è qualcosa che lascia qualcosa dentro di te lo fai perché vuoi documentare in maniera diversa quello che succede intorno a te il mondo magari qualche situazione particolare nella città in cui vivi i social sono secondo me uno strumento molto importante però non bisogna neanche farsi prendere dalla dalla smania dei like abbiamo accennato tra l'altro questo argomento con Gianluca Bocci in un video che abbiamo girato insieme qualche qualche settimana fa e il concetto è quello molte persone adesso fanno le foto per i like e quello è proprio è il motivo sbagliato secondo me non porta non porta nulla detto questo se usati per la giusta motivazione i social sono utilissimi sono fondamentali per farsi conoscere se uno lo fa per lavoro per far conoscere il proprio lavoro o semplicemente per comunicare qualcosa e raggiungere un pubblico bello ampio l'importante appunto è proprio non farsi prendere dall'ossessione del like del commento dei follower e quant'altro ed era quello che in realtà mi piaceva sentirti dire perché perché sei qua insomma sei qua in un in un canale che a te non porterà nulla ad oggi se no magari l'esperienza di avermi conosciuto e solo questa cosa insomma ti farà dire ho conosciuto un testone è una questione di condivisione non cioè i numeri alla fine sono sono un numero appunto finisce lì non è che io non giudico le persone in base ai numeri ed è bello questo perché sei sei una una rarità sui social un mondo dove i numeri oggi sono diventati il curriculum correggimi anche lì se sbaglio ormai anche le aziende assumono in base ai profili in base all'engagement che hanno che ha un profilo piuttosto che un altro e questa cosa in assoluto ha appiattito tutto e sta rendendo paradossalmente anche più difficile emergere artisticamente perché poi c'è questa voglia di omologarsi a quello che fanno che fanno gli altri perché magari altri hanno più like hanno più consensi con uno slider in più o in meno anche parlando di fotografia nella post produzione e si perde un po' quello che è quello che hai detto tu prima cioè perché il perché simon sinek se non sbaglio parlava del golden circus cioè il perché cioè chiedersi partire dal perché poi fai tutte quante tutte quante le altre cose e quindi con questo penso che abbiamo esaurito tutte le curiosità che io volevo avevo e volevo sciogliere e soprattutto sono convinto che questa tua ospitata insomma su questo valore di F4 sia stata comunque di ispirazione per tutti io che posso dirti ancora grazie grazie a te di nuovo per l'invito è stato un piacere e spero ecco farai questa quella piccola scommessa insomma con me quella prova quella sfida e mi aspetto insomma che poi tu mi dica cosa ne pensi con la speranza insomma di poterci incontrare e farci un paio d'ore io e Teddy Street e scambiarci qualche modo di fare anche in mezzo in mezzo alla strada detto ciò che ti posso dire un abbraccio grande e mi raccomando segui F4 iscriviti clic 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 via campanella mi raccomando ok ciao Fabio grazie ciao Tuglio ciao io oggi con te veramente ho parlato con una grandissima reverenza perché quando ho chiesto a te io mi aspettavo da parte tua un no da parte tua mi aspettavo il no perché non fai street cioè tu hai sempre toccato la street come hai detto tu io ho sempre visto la tua street perché io ti conosco però non sei uno che la tratta addirittura quella domanda che non ti ho fatto è quella del POV che io odio con tutto me stesso e tu hai provato a farlo non hai più rifatto quell'esperienza perché pure secondo me a te non ti è piaciuta l'esperienza del POV poi una cosa molto mia interpretazione ecco mi aspettavo uno da parte tua che in realtà tu hai accettato subito e ti sei messo a disposizione questa cosa Fabio è impagabile questa cosa è impagabile ed è il brutto dei social c'è chi da uno schermo da youtube da una fotografia esce quella che è e sei tu e c'è chi invece esce quello che vuole apparire e poi lo trovi in mezzo alla strada è tutt'altra persona io quando dico che è una persona di merda non può fare belle fotografie intendo dire questo quando dico che c'è il bello della persona in una bella fotografia prendite tutti questi complimenti Fabio perché sono non è questione di montarsi la testa non hai bisogno di me non sono nessuno e ti ripeto probabilmente non diventerò mai nessuno però è la verità magliette di quest'estate a te che piace fare magliette l'ho vista sulla spiaggia qualche giorno fa se volevo piacere a tutti nasceva Nutella ed era bellissima come magliette visto anch'io delle robe del genere ok Fabio veramente grazie grazie davvero ci aggiorniamo qua sui social va bene ciao buona giornata ciao ciao